E inizia questo grande mese di dicembre, oggi è il primo e naturalmente anche il nostro almanacoroscopo parte da questo momento. Oggi è San Eligio, auguri a tutti i compleanni. Il regista Woody Allen è nato nel 35 e poi un grande calciatore che ricordiamo ancora con i mondiali del 90, nel 64, è nato oggi Salvatore Schillaci. La frase è molto semplice ma molto efficace. Chi più spende, meno spende. Buon primo dicembre con il nostro almanacoroscopo. Ariete, quest'oggi potrete fare qualche felice incontro. Attenzione alle sbandate. Qualcuno potrebbe proporvi un fine settimana particolarmente rilassante. Prima di scartare questa ipotesi, verificate se in realtà non sarebbe l'ideale per un buon recupero delle vostre energie. Toro, qualsiasi iniziativa oggi avrà molte possibilità di riuscita. Se state cercando lavoro o se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, probabilmente avrete la possibilità di realizzarlo. In famiglia qualcuno vi circonderà con tutto il suo affetto. Sappiatelo ricambiare. Gemelli, potrebbero verificarsi tensioni oggi con le persone che vi circondano. La soluzione migliore sarà quella di mantenere la calma, anche perché certi rimproveri che vi vengono fatti potrebbero avere delle valide ragioni. Quindi, silenzio e ascoltate. Cancro, non siate timorosi. Non abbiate paura di commettere errori. Prendete la vostra decisione serenamente. Probabilmente la vostra situazione era proprio giunta al capolinea e rimaneva priva di entusiasmi. Ciò che adesso appare una fine, sarà poi una svolta felice. Leone, vi sentirete particolarmente nervosi ed irritabili. Sarebbe opportuno scaricarvi delle vostre energie con una sana attività sportiva o perlomeno con lunghe passeggiate. Non spendete in maniera impulsiva, perché presto potreste pentirvene. Cercate di riflettere prima di agire. Siate molto cauti. Vergine, fate molta attenzione ad una persona che potrebbe tentare di soffiarvi una posizione da voi appena raggiunta. Non mollate la presa e restate sempre in guardia. Prima o poi riuscirete a scoprire di chi si tratta. Se trovate per terra una moneta, raccoglietela. Sarà di buon auspicio. Bilancia. Tutto sommato, la giornata si presenta serena. Forse il fine settimana programmato darà già le ali alla vostra fantasia. O forse oggi vi sentirete particolarmente in armonia con voi stessi. E il risultato della vostra intima soddisfazione si rispicchierà anche sul vostro viso. Scorpione. Non tormentatevi inutilmente con la gelosia. Le cose non stanno affatto come voi pensate. Ma voi, ai vostri fantasmi, non volete affatto rinunciare. In fondo vi va bene così. E tirerete avanti tutta la giornata crogiolandovi nelle vostre paure irreali. Non ne vale davvero la pena. Sagittario. Potrebbe nascere un'accesa discussione sui diversi modi di vedere la vita tra voi e alcune persone del vostro stesso ambiente. Cercate di mantenere la calma, perché è vero che i vostri ideali sono per voi importantissimi, ma è altrettanto vero che non tutti li condividono. Siate concilianti. Capricorno. Vi sarà una netta ripresa nel rapporto con gli altri. Vivrete una giornata in un clima di apertura che contribuirete a scaldare con la vostra presenza particolarmente allegra. Non dimenticate di portare la vostra solidarietà ad una persona che sta molto soffrendo. Siate un po' più espansivi, specialmente con lei. Acquario. Qualcuno sarà con voi alquanto indisponente. Non dategli corda o finirà in un litigio. Piuttosto fate di tutto per passare inosservati. È meglio essere prudenti. State privando una persona delle vostre attenzioni. E per orgoglio questa non ve ne parla. Pensateci. Pesci. Fidatevi dei consigli di una persona che vi conosce molto bene. Vi accadrà spesso oggi di sentirvi orgogliosi delle piccole cose che stanno maturando. I vostri progetti, piano piano, stanno diventando qualcosa di concreto. Dividete le vostre soddisfazioni con la persona amata. Ne sarà particolarmente lieta. Grazie. Grazie.